Hello guys, io sono Shane ed eccoci qua come sempre al TG Day, il TG della disinformazione che vi tiene aggiornato ogni mese di tutti quanti i cambiamenti collegati al mio canale. Oggi, nel mese di aprile, abbiamo una nuova valletta che stavolta è abbastanza giovane quindi non consideriamola una bomba sexy come in altri TG Day, ma abbiamo Clementine di The Walking Dead perché lei, semplicemente perché ultimamente mi sono fissato a giocare i giochi della Telltale mi sono recuperato il primo e il secondo The Walking Dead e mi sto anche riguardando la serie delle film quindi ho deciso di metterle come la valletta di oggi. Yeah, cambiamo ogni tanto e non mettiamo sempre personaggi alquanto tettoni barra sexy Iniziamo quindi subito con annunciarvi le news con queste immagini ancora davanti Allora, le news del nuovo mese che arriva, quindi maggio in realtà siamo oggi a maggio, ma questo è un altro discorso Ci sono nuovi video collaborazioni che ho fatto con alcuni amici della mia crew la mia band, del mio gruppo troppo british Ok, ma questo meme sta diventando un po' troppo andato Vabbè Ma nella lezione ci saranno tanti video collaborazioni con Gianfi, con Keck e con tutti gli altri membri quindi che nel tempo li avete già conosciuti Quindi vi ricordate sicuramente di loro Nel caso al contrario, beh, ci saranno comunque video non in solitaria Quindi yeah! Novità numero due Sto pensando a attivare una possibile serie con il PlayStation VR Perché ho recentemente, non proprio recentemente, ma abbastanza tempo fa mi pare verso gli inizi di aprile Comprato Resident Evil 7 per PlayStation 4 Quindi con la funzione del PlayStation VR Come sapete ho un PlayStation VR Quindi sarebbe carina secondo me una serie su questo gioco Insomma col VR Quindi lasciate un commento se la cosa vi potrebbe interessare Inoltre ho intenzione di portare nuovi video guadagni In che senso è un nuovo video della serie di Mind Zero Quindi siti dove potete ottenere KD Steam Soldi e quant'altro Utilizzando dei piccoli stratagemmi Tra cui provare dei giochi Aprire delle pubblicità Registare determinati siti Eccetera eccetera Inoltre dopo secoli e secoli Che l'avevo preparata L'avevo, tra virgolette, allestita Aprirò un Patreon Perché, come sapete, per fare video richiede tempo Il tempo è veramente difficile da ottenere Quindi se volete supportarmi in maniera economica La mia continuazione di video Se volete fare una piccola denazione tramite Patreon Di certo non mi dispiacerebbe Quindi vi lascio in descrizione ovviamente anche il link del mio Patreon Che adesso apparirà sotto ogni video da questo in poi Ok, passiamo alla prossima fase del TGD La sezione del prossimo mese O in realtà questo mese Per la pubblicazione del video Quindi Allora, cosa succederà? Voglio tornare un passo indietro E tenere, tra virgolette, un passo indietro Una serie attiva, come è stato per GreenDea Ma soltanto quella attiva In due giornate Quindi avremo più spazio per altri contenuti Quindi non unicamente delle serie continuate nel tempo Che magari a qualcuno possono interessare Ad altri no Ma per, appunto, variare Poter caricare più contenuti Quindi ci saranno più video unici del loro genere Quindi dei semplici toccate e fuga Di determinati titoli Che magari, a seconda anche del vostro feedback Potrei pensare di portare come serie O come video continuativo Ovviamente dipende sempre da titolo a titolo Tra i veri MIC, GDM, giocate singole Insomma, vedremo un po' Inoltre ho intenzione Sempre per mancanza di tempo Di semistoppare la serie di spacchettamenti Pokémon Perché, come avete notato probabilmente Nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi Ho, tra virgolette Caricato, sì, i semplici spacchettamenti Pokémon Ma nell'intermezzo di alcune domeniche Si sono presentati spacchettamenti di altro genere Quelli di Forgotten Realms Quelli dei Lama di Fortnite Comunque non commentati E caricare quel gel di video Francamente non so quanto senso abbia Perché credo che a pochi di voi Potrebbe interessare un gameplay mutuo In cui si aprono pack e niente di più Quindi cercherò di occupare la domenica In maniera diversa Inoltre, ovviamente, ci sarà questa nuova programmazione Che verrà spiegata meglio sul fondo di questo video Che penso Ve lo dico temporaneamente Lunedì un video casuale Quindi che non rientra in nessuna delle serie Mic, GDM e quant'altro Il martedì e il venerdì La nuova serie che sarà Zino Clash Il mercoledì un Mic o un GDM Secondo dei casi Il giovedì un random video Quindi poi sarà sempre un altro Mic, un altro GDM O qualcos'altro Un Main Zero Eccetera eccetera Come detto venerdì Zino Clash Il sabato lo pensavo di metterci un free to play Quindi quelli sono video abbastanza semplici Di solito provo sempre nuovi titoli Che trovo sul web tra Bruiser Games e quant'altro Quindi sicuramente quelli ci saranno il sabato E infine domenica O se riesco a procurarmi uno spacchettamento Della serie di Pokémon O di qualche altro titolo Che magari non neanche mai portato E si può commentare sopra Oppure un nuovo video di Golf with your friends Che è una serie che ho registrato parecchio Con i membri della crew Secondo me sono dei video molto divertenti E davvero intertenitivi Passiamo alla sezione delle domande Le tre domande del mese Cerchiamo di farle molto in fretta Per non perderci troppo tempo sopra Prima domanda è Perché non regali i codici pacchetti Pokémon? Per il semplice fatto che Di solito i pacchetti O li trovo tramite altri video su YouTube Di altri autentici che spacchettano E quindi sono abbastanza rapido Da prendere il codice regalo Che regalano Tipo grazie a Federic 95ita O di solito appunto Gioco Quindi mi guadagno le monete E mi li scioppo da solo Quindi diventerebbe davvero difficile Riuscendo anche a comprare dei veri pacchetti Quindi avendo una vera spesa Regalarveli pure Quindi di solito evito Proprio di comprare carte Pokémon L'ho fatto in passato Quando ero più piccolo Ma adesso non ho intenzione di spendere 5 euro per un pacchetto di 10 carte Assolutamente no Quali sono le tipologie di giochi che preferisco? Allora sono un grande amante Dei giochi della Telltale Quindi tutta quella serie appunto Di giochi narrativi Con le scelte Che la trama cambia A seconda delle scelte che effettui Sono un semi amante Degli MMORPG E degli FPS E invece adoro la folia I giochi stile scacchiera In che senso? Non parlo di scacchi Ma proprio tipo I Dungeons & Dragons Anche semplicemente I giochi in scatola In real life War Tide La serie di XCOM Tutto quel genere Di titoli lì Infine Ultima domanda Che cuffie Barra microfono Utilizzi Io Attualmente Utilizzo sia come cuffie Che come microfono Per registrare Le Logitech Scusate G430 L'ero putto davvero Niente male Cioè Fanno il loro dovere Non costano Uno sproposito Sono buone Ed eccoci arrivati A un punto dolente La sezione delle key Come avevo appena annunciato Questo qua sarà L'ultimo Mese In cui Io Farò un video Dedicato Alle key Di steam E quant'altro Probabilmente Nei futuri TGD Li metterò comunque Qualche key Di steam In descrizione Ma in maniera Molto più limitata Perché ho notato davvero Che sia il TGD In sé Sia i video Punto di key Vengono veramente Considerati Da due o tre persone Ed è già dir tanto Quindi Mettere key Online E vedere che Di norma Un utente Se le prende Tutte quanti di fila Gli altri vanno E lasciano dislike Perché non ho trovato niente E tutto Non mi garba tanto Quindi ho deciso Che questo Di questo video Sarà l'ultimo Video Contenente le key Quindi in descrizione Andate a recuperarvelo Se vi interessa Ottenere qualche Simpatico giochino Di steam Dulcis in fundo Per finire il video Se sono i sponsor E saluti Che stavolta è insieme Voglio sponsorizzare The Master Che è un mio amico Con cui Ultimamente gioco Un casino Su fortnite Con lui Su un t-speak Insieme Anche ad altri Membri Della nostra compagnia Quindi Fate un salto sul canale Andate a vedere Andate a vedere un po' I video Che carica Volevo Risponsorizzare Il canale Di Videogiochi Italia Che ormai Ha cambiato gestione E quant'altro Ma lo sto rivalutando Nel tempo Rispetto al passato Con un nuovo staff Davvero acceso Affiatato E volenteroso Ci sarà inoltre Il mio Patreon Sempre lì Nel link Delle sponsorizzazioni E il mio primo canale Quello Android Che purtroppo Per mancanza appunto Di contenuti Carico E mancanza di visual Appesso la partnership Succede Succede Infine Invece di salutare Un utente particolare Voglio salutare Tutti Quanti I miei iscritti Che mi contattano Ogni tanto Certe volte si Certo o no Tramite Facebook Ask Twitter Steam Insomma Tutti quelli che di solito Cerco di contattarmi Per giocare insieme Io sono sempre Aperto a tutti quanti Quindi se volete farvi un game Basta che mi contattate In un modo o nell'altro E ci possiamo organizzare Bene Detto questo Direi che il TGD È arrivato Alla sua conclusione Quindi io Vi ringrazio Per la visione Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Cioè domani Con Se avete seguito il video Avete sentito la programmazione Già lo sapete Quindi non mi serve ripetermi Bye bye Ciao Viva Walking Dead Yeah California Show me love Get buss Get fucked up California Throw it up Get buss Get fucked up Here we go Grazie a tutti.